Una delle domande più frequenti che ci si pone con i video aziendali è ma dove li mettiamo? Sul canale YouTube o sul sito dell'azienda? Beh, la risposta telegrafica è alcuni su YouTube e altri sul sito web. Ok, mi chiederai ma con quale criterio? Beh, dammi qualche minuto che adesso te lo spiego. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda allora ti consiglio di premere subito subscribe così da non perdere nessuna delle prossime puntate. Ora, parlavamo proprio di video aziendali, giusto? Beh, li mettiamo su YouTube o sul sito corporate e il link della promozione dove lo facciamo puntare? Al sito web o su YouTube? Cosa coltiviamo? Il canale YouTube o portiamo traffico al nostro sito? Calma, calma, andiamo per ordine. Partiamo da un concetto per cui per forza dobbiamo essere d'accordo prima di iniziare. Caricare dei video su YouTube non vuol dire avere una strategia di video marketing. Di solito quando un'azienda carica dei video su YouTube lo fa per ridirigere del traffico verso il proprio sito web e questo avviene principalmente in tre modi diversi. Con una indicazione verbale data all'interno del video, la classica call to action che invita a visitare quella o quell'altra pagina oppure una landing page, attraverso le cards che sono delle inserzioni di link cliccabili direttamente nel video e nei link presenti nella descrizione del video stesso. Ma prima di lavorare su questi tecnicismi dobbiamo però renderci conto che quando disegniamo una strategia di video marketing abbiamo a che fare con tipi differenti di video. Ora io do per scontato che si abbia una visione chiara del cliente che si desidera raggiungere. Io ho fatto un episodio sulla buyer persona qualche settimana fa che se te lo sei perso ti consiglio di andare a rivedere perché è fondamentale per questo aspetto ed è la puntata 243, ti lascio il link nelle note. Come dicevo bisogna capire quali video siano in grado di farci raggiungere sì la nostra audience ma in ciascuno dei punti del suo customer journey perché nelle varie fasi di awareness, consideration, conversion, loyalty e advocacy ci sono diversi tipi di video che vengono a darci una mano. Ad esempio i video come i vlog sono formidabili nella fase di awareness un po' come i video fatti apposta per i social tipo tiktok, instagram, snapchat, youtube shorts e così via. Ma anche la riproduzione di conferenze, convegne, interviste ad esperti possono aiutare il pubblico in target a conoscere, a scoprire il nostro brand. Poi nelle fasi di consideration e di conversion magari ci sono i video messaggi personali, le video email, i video con i casi di successo e per la fase di conversion e di advocacy lì sono proprio formidabili webinar e così via potrei continuare. Poi se abbiamo un sistema tracciante che attraverso tutti i canali sia in grado di tracciare il lead e di dare un punteggio a questo lead beh saremo davvero fortunati perché potremo anche richiamare i contatti partendo a fare il follow up da quelli più promettenti. Quindi ogni tipologia di video ha un suo ambito e un suo momento nel customer journey della nostra audience. A questo punto però ci sono di solito in azienda due approcci antitetici che troviamo quando si parla di video. Il primo è un approccio ultra pragmatico diciamo pratico. Ci si trova in riunione, si fa un brainstorming su quale video fare perché qualcuno ha deciso che serve un video, il mega capo, il responsabile marketing, il direttore poco cambia, si definisce l'idea, l'argomento su cui voler fare il video, si passa alla produzione e poi una volta che il video è online ogni tanto si vanno a vedere gli analytics. Il secondo approccio che troviamo in azienda è più strategico e più orientato agli obiettivi. Ci si pone la domanda quale fase del ciclo di vendita oggi vogliamo migliorare e poi si identifica come la si vuole migliorare e qualora fosse il caso si deciderà poi di optare per un video. Sono nel caso in cui il video si adatta ovviamente. Ecco a questo punto poi si passa alla produzione e al controllo dei risultati. Da tutto questo si evince che per un'azienda produrre solo video per YouTube non è proprio la cosa migliore in assoluto da fare. Infatti YouTube è anche lei un'azienda e ha come scopo il suo profitto, non il vostro. Ecco lavorando per caricare video solo su YouTube saremo spinti più o meno inconsciamente ad adattare i video alle strategie di una piattaforma che vive di advertising. Perciò inizieremo a fare video poco più lunghi di 8 minuti perché YouTube deve farci scorrere la pubblicità così spinge il nostro video. Ah la pubblicità, la pubblicità dei nostri concorrenti che si avvantaggeranno della fatica che abbiamo fatto a radunare una audience proprio per loro. E poi saremo incentivati a fare miniature buffe, capaci di catturare l'attenzione fra decine e decine di altri video perché l'utente quando va su YouTube trova tutto attorno al nostro video altri video interessantissimi per lui per cui noi dobbiamo spiccare. Dovremo quindi usare colori in grado di attirare l'attenzione sul nostro video. E così pian pianino cominceremo a produrre video per YouTube e non per noi. Occorre quindi pensare di creare video anche per gli altri momenti del Customer Journey affinché sia presidiato ogni step del percorso di acquisto del cliente. Altrimenti il rischio è quello di fare un investimento che è difficilmente sostenibile. Per carità sono belle le visualizzazioni, sono bellissimi follower ma a me piacciono molto di più i lead e soprattutto le vendite. immagino anche a te. Ed è qui che iniziamo a parlare di qualche cosa che è sempre stato lì nell'angolino e che salta fuori e che si impone. Parliamo di budget. Produrre video è senz'altro costoso ma può sembrare molto più costoso di quello che in realtà è. Soprattutto se si tengono presenti alcune evidenze che possono aiutarci a gestire i progetti in maniera molto più sostenibile. Vi faccio questo esempio perché recentemente ho scoperto grazie a 23 una completissima piattaforma di video marketing di cui sono partner per l'Italia che in generale i video che vengono più prodotti sono quelli di brevissima durata. Del resto quante volte sentiamo dire dai nostri consulenti fai dei video brevi fai dei video brevi che altrimenti non li vede nessuno. Ecco i dati però dicono delle cose un pochino diverse. L'ottanta per cento dei video online dura da pochi istanti a cinque minuti e questo perché tutti sperano di farli diventare virali sui social facebook su instagram su youtube ecco peccato che i video più capaci di generare engagement leggi i video che spingono il cliente a lasciarti l'email e i contatti per essere richiamato siano quelli che durano più di 45 minuti. A questo punto cosa facciamo cerchiamo le view o cerchiamo i lead? Dobbiamo usare quindi youtube per l'awareness dovrebbe essere sempre utilizzato così per riportare le persone nel nostro sito web. Una volta che sono sul nostro sito web beh i nostri contenuti video dovrebbero essere fatti per fargli lasciare i dati e generare così dei lead. Quindi contenuti lunghi, webinar, eventi online, eventi automatizzati e così via. Per carità vanno benissimo anche quelli. Fra l'altro i video caricati su youtube non è che offrano molte informazioni. Produrli costa sicuramente tanto ma a parte pochi dati di analytics che poi analytics sono dati che ci vengono dati per spingerci a realizzare i contenuti come fanno comodo a youtube. Non è che troviamo tanto. Chi sono i nostri visitatori? Quali azioni fanno? Quanti video vedono? Quali spezzoni di video rivedono più volte? Ecco questi dati preziosissimi youtube non li offre per niente ed ecco quindi che sul mercato escono piattaforme come 23 che sono strumenti per gestire al meglio la nostra attività di marketing. 23 di fatto è realizzata attorno a tre funzioni principali ma distinte. La prima è che è un potente motore per fare webinar con funzioni di interazione estremamente avanzate. Sondaggi, reaction. Immaginate di poter vedere applausi, cuori, pollici alzati durante la conduzione del vostro webinar e di poterne tenere conto in fase di follow up. Quel cliente mi ha messo un like, ha fatto un pollice alzato. Quando ho detto una determinata cosa, beh, lo richiamo e so già da dove partire nella conversazione. La seconda funzione è che è una piattaforma adattissima per ospitare video sul tuo sito in modo però da tracciare tutto quanto, da catturare più lead possibili e da portarli all'interno del tuo CRM aziendale. Nei prossimi video magari vi faccio curiosare nella dashboard perché hanno una piattaforma di analytics davvero potente. La terza è uno strumento di videomessaggistica con cui creare al volo videomessaggi brevi per rendere più umane ed efficaci le comunicazioni interpersonali con clienti, prospect e anche collaboratori. Ora lo so che avete già la mano sulla tastiera e state andando a vedere quanto costa questa soluzione. Beh, prima che vi prendiate paura sappiate che ho negoziato un prezzo vantaggiosissimo per il mercato italiano. Loro vogliono farsi conoscere sul nostro mercato e io allora gli ho estorto uno sconto davvero cospicuo per rendere disponibili anche alle aziende del nostro paese una soluzione avveniristica. Nelle note dell'episodio vi lascio qualche link per approfondire e poi tanto sapete perfettamente come contattarmi se volete. Ho però ancora una cosa da dirvi che è molto molto importante. Nei prossimi giorni farò un regalo agli ascoltatori del podcast e ai follower del canale YouTube. È un regalo importante, non è il solito PDF che nessuno legge perché io sono pieno di PDF e francamente non ne posso più. È un bel regalo. Come ottenerlo? Beh, seguendo il canale Telegram, quindi iscrivetevi e seguendo il canale YouTube. Ne parlerò qui, vi darò tutte le istruzioni. Bene, siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Come vi ho detto trovate tutti gli appunti su merita.biz barra 259. Ricordo come sempre il gruppo Telegram, telegram.me barra Meritabiz che è il luogo in cui la discussione continua per tutta la settimana. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao! Grazie a tutti!